Amici ed amiche della finestra sulla Sicilia, benvenuti ad una nuova puntata in compagnia della nostra amica Vilma. Un saluto a tutti. Questa settimana prepareremo un piatto veloce veloce e fresco. Stiamo parlando della pasta alla norma ma passiamo agli ingredienti. Melenzane, salsa di pomodoro, basilico, ricotta salata e pasta. Sfigliate a cubetti le melenzane. Scaldare l'olio di semi meglio se di araghide e friggete le melenzane. Frattanto tagliate la cipolla a datini e mettete a rosolare. Mettete in un decame l'olio d'oliva e versate la cipolla. Appena a rosolare aggiungete la salsa. Le pepe a piacere. Mettiamo a bollire l'acqua per la pasta. Ho visto che hai usato le mezze penne per la pasta alla norma ma si possono usare anche altri tipi di pasta? Si, i cigatoni, i mezzi cigatoni, i tortiglioni o i spaghetti e una pasta a piacere. Noi stiamo utilizzando le mezze penne. Bene amici ed amiche della finestra sulla Sicilia. Spero vi sia piaciuta questa puntata tutta fresca fresca. Questo è il risultato del nostro lavoro. Se avete delle vostre ricette, rivisitate, fatecelo sapere, inviatecelo al sito www.lafinestrasullasicilia.com oppure la pagina di Facebook, la finestra sulla Sicilia e il blog di tutti. Da Michela e Vilma. Buona pasta alla norma a tutti! Grazie! 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 Grazie!